A questo lato c'è il gruppo dei piccolini, piccoli amici di Mr. Billi e c'è anche Matteo, Mr. Matteo. I piccolini stanno qua. Ecco Mr. Billi con i più piccoli. Qua ci sono i più piccoli, chi c'ha le casacche? Ecco, giocano, bravi ragazzi. Qua c'è pure Luca, Luca, come mai non giochi con i compagni Luca? Luca, ora ho parlato con papà, ha detto che devi fare il bravo, ho parlato con papà eppure con mamma prima. Vai a giocare con i compagni, c'è il Mr., su, vai. Cugnettante fa la luna e ora ho parlato con il mio padre che stava al campo vecchio. Ciao bravi, ubbidite sempre al Mr. Francesco, vabbè, metto quello. L'ho metto Alessandro. Ecco, si accingono a fare una partitella fra di loro, i piccoli. Su bambino è nuovo, c'ha la maglia della Roma, giusto? Romanista? Giallo-rosso. Ah, giallo-rosso, bravo. Eppure il cassefrentano, adesso c'ha i colori giallo-rosso. Ciao! Bravi, a posto? Io segno sempre la partita. Ah, fai gol, come ti chiami? Guido. Guido, il cognome? Verratti. Bravo, Verratti, come i Verratti della Nazionale, bravo. Io sono parente. Io sono parente. Ah, sei parente di Verratti, il calciatore del... Bravo. Bravo, bravo, bravo. E l'ho incontrato una volta. Ah, bravo. Eh, ma giocate... Eh, ma seguite il mister, eh. Eh, bravo. Ciao, ciao. Fate i bravi. Andate a giocare. Eh, andate a giocare. Luca, vuoi fare la partita? Luca, me lo dico a papà, lo dico. Dove sta, Luca? Fai la partita col mister, so. Eh, se no, lo dico a papà e dopo si arrabbia pure mamma. So, obbedisci al mister. Anche io so che la partita. Eh, bravo. I miei amici non fanno male. Esatto, obbedite al mister, su. Ciao. Eh, state col mister, eh. Lai in fondo c'è il gruppo di mister Gabriele, il nostro coordinatore tecnico. No, non toccare la porta. Questo gruppo di ragazzi. Primi calci.